I contagi lentamente cominciano a scendere, ma il virus nel periodo invernale non verrà debellato completamente. Serve per questo un giusto compromesso tra le sorti dell'economia mondiale e la salute dei cittadini. Ma andiamo a vedere questo contributo. Il giusto equilibrio tra un'economia che sta collassando e la salute della popolazione. Infatti noi sindaci siamo combattuti proprio su questi due fronti. Nel periodo di marzo-aprile c'è stato il lockdown legato a decisioni di PCM nazionali che naturalmente hanno comportato anche la possibilità di ristoro per tante categorie che hanno subito la chiusura. Adesso purtroppo non ci sono queste situazioni, non c'è questa possibilità. Per cui lo Stato ha demandato alle regioni, ai comuni, tante decisioni. Io ripeto, voglio cercare di... Già ho attuato delle restrizioni con alcune cose tipo, ripeto, mercato, cimitero, anche tutte le scuole chiuse. Ulteriori restrizioni significherebbe lasciare, per quanto riguarda il Molise, la zona gialla. Siamo in una situazione di galleggiamento, a rischio. Io credo che in questi ultimi prossimi 15 giorni dobbiamo essere molto attenti e responsabili, anche perché ci leggo e ho notizie dal Governo centrale nazionale che si vorrebbe ipotizzare un allargamento delle maglie per quanto riguarda il periodo a ridosso del Natale. Naturalmente io sono anche medico e anche come categoria siamo molto perplessi noi medici su questo aspetto. Chiaramente speriamo che ci sia molta responsabilità da parte di tutti. Proprio da medico, a vostro avviso, come è cambiato il virus del Covid dall'estate al periodo autunnale-invernale, in base quindi alla temperatura? Chiaramente la virulenza è maggiore. Si era pensato in modo errato che potesse essere molto soft ormai il contagio da coronavirus e questo invece non lo sta dimostrando. Tra l'altro anche la falsa idea che poteva soltanto colpire semmai gli anziani e quant'altro, invece si è visto che i colpiti possono essere di tutte le età e questo fa pensare che bisogna essere, ripeto, sempre attenti e responsabili. Naturalmente voglio anche far notare che qualora ci sia un contagio, quel contagio può comportare nell'ambito familiare una problematica. Tutti quanti noi abbiamo figli, tutti quanti noi abbiamo nipoti, tutti quanti noi abbiamo i nonni a casa, quindi un contagio potrebbe comportare grandi situazioni.